Sto aspettando per il taxi, due ore. Io sono operativo, però c'è da dire una cosa molto importante che non è da trascurrare. La metropolitana è rotta, ecco perché ci sanno pochi taxi. Il lavoro esplode, i taxi su pochi. Tenendo conto quanta gente c'è in giro, penso che forse è un po' minore il servizio. Se lo chiede ai colleghi, no? Lo chiede, io sto lavorando. I numeri sono ridotti, ha capito? Allora, c'è sta prima il turno A, il turno B e il turno C. Sennò sono sette mesi che non fanno ferie, va bene? Cosa sono sette mesi? Io lo dico al sindaco. Grazie mille. Grazie. Grazie mille. Buona giornata. Vado via. Grazie. Buona giornata. Io ce sto. Un po' è ferragosto per il po' per tutti chi ha avuto modo di lavorare. Io purtroppo sono stato tre settimane fermo perché ho fuso la macchina vecchia, questa è quella nuova, e adesso devo recuperare qualche soldarello. Grazie mille.